La comunicazione tra Arpa e Regione avviene direttamente all'interno della Sala Operativa Regionale. Durante l'allerte meteo arancione e rossa, infatti, oltre ai previsori meteo-idro, è presente anche un addetto della comunicazione dell'Agenzia proprio per comunicare sia con Regione ma anche con i cittadini. Gli eventi alluvionali che hanno contraddistinto la Liguria dal 2010 in avanti hanno influito pesantemente nel modo di comunicare dell'Agenzia. In particolare durante l'allerte meteo adesso siamo orientati non soltanto ai tecnici ma anche alla popolazione. La nostra pagina Facebook di Agenzia conta quasi 13.000 contatti ed è aggiornata 24 ore su 24 durante l'allerte. Durante le allerte meteo più importanti, il primo canale è la TV più presente sul territorio e di solito un suo giornalista o un operatore stazionano nei pressi della Sala Operativa in maniera quasi continuativa. All'incirca ogni ora uno dei due addetti alla comunicazione dell'Agenzia esce dalla Sala Operativa per aggiornare, per rispondere alle domande dei giornalisti, per informare la popolazione delle eventuali variazioni dell'allerta meteo. All'incirca ogni ora uno dei due addetti, per rispondere alle domande dei giornalisti,